Buongiorno e benvenuti. Oggi desidero presentarvi alcuni suggerimenti e funzioni utili di questa asciugabiancheria Miele. Qui ho un accapatoio e alcuni asciugamani che voglio asciugare. Prima di iniziare desidero aggiungere un altro piccolo consiglio. Se amate la biancheria che profuma di fresco sicuramente apprezzerete i flaconcini profumati di Miele. Rispetto agli ammorbidenti tradizionali profumano la biancheria per quattro settimane. Il profumo da me preferito è acqua. Il flacone si inserisce nel filtro e si regola in base all'intensità di profumo desiderata. Chiudere poi lo sportello e selezionare il programma cotone. Il livello di asciugatura proposto è sufficiente per la maggior parte dei capi in cotone. Per capi più spessi come in questo caso per il mio carico consiglio un livello di asciugatura più alto. Per esempio pronto asciutto più. Avvio il programma e Perfect Dry fa in modo che la biancheria raggiunga il grado di asciugatura corretto. Quando la biancheria è asciutta posso estrarla dal cesto. Soprattutto gli asciugamani rilasciano l'anugine che si raccoglie nel filtro. Essa può essere raccolta facilmente con le mani e il filtro si può pulire con un panno. Piccolo suggerimento, la pulizia del secondo filtro è più semplice se si utilizza la lanugine presente per pulire. Di tanto in tanto l'asciugabiancheria richiede di pulire il filtro. In questo caso è sufficiente estrarlo e risciacquarlo sotto acqua corrente. Dopo averlo pulito può essere reinserito direttamente nell'asciugabiancheria. Al termine di ogni ciclo di asciugatura vuotare il contenitore dell'acqua di condensa. Se si desidera risparmiare tempo e fatica consiglio di utilizzare il tubo di scarico per l'acqua di condensa integrato. Sul retro dell'asciugabiancheria è situato un tubo flessibile la cui estremità può essere espilata dal contenitore dell'acqua di condensa e inserita in uno scarico idrico oppure in un sifone. L'acqua si scarica in automatico e non è più necessario vuotare il contenitore dell'acqua manualmente. Adesso desidero darvi un altro consiglio per facilitare anche lo stiro delle camice. Con il programma Vapore e Stiro Facile è possibile introdurre macchine a 5 camice. Con questo programma le camice vengono leggermente inumidite e lisciate grazie al calore. E ancora vorrei mostrarvi un accessorio molto utile, speciale cesto. Questo cesto è la soluzione ideale per asciugare macchine a scarpe, pelusce e piccoli capi in lana. Si applica facilmente nei due fori del filtro. È soprattutto adatto per tutte quelle parti che non devono muoversi all'interno del cesto. In questo modo per esempio i pelusce si asciugano completamente e i capi di lana non si filtriscono. Grazie per l'attenzione e spero che i miei suggerimenti possano alleggerire il vostro lavoro. Se lo desiderate vi sono dei video relativi al lavaggio.